Rimaniamo anche un po' stupiti da questo annuncio a ridosso di una manifestazione che comunque si farà perché Montecatini ha necessità di nuovi investimenti e non solo di promesse. Le promesse le aveva fatte anche il presidente Rossi, 50 milioni. E la risposta di Andrea Bonvicini, imprenditore di Montecatini, che parla anche a nome del comitato spontaneo nato per cercare di stimolare la politica a trovare soluzioni per risollevare il settore termale della città. Alla dichiarazione dell'assessore regionale Federica Fratoni che ha annunciato l'acquisto da parte della regione dello stabilimento Tettuccio per 11,5 milioni di euro. È da mesi che noi chiediamo degli interventi, però non può bastare assolutamente un intervento così, uno spot pubblicitario che poi si deve confermare con atti amministrativi. E quindi devono essere stanziati a bilancio, deve essere convocata un'assemblea delle terme di Montecatini e all'interno di queste basta fare annunci ma occorrono fatti. Alcuni giorni fa uno dei più noti albergatori della città, Stefano Pucci, ha lanciato la proposta andare a Firenze e farsi sentire direttamente davanti alla sede della regione. Tutto confermato nonostante l'annuncia sorpresa della stessa Fratoni. Tutti in Piazza Duomo a Firenze. L'obiettivo è sollecitare alla regione toscana, proprietaria di maggioranza delle terme con il 70% delle quote, a risolvere la questione terme di Montecatini. Questione che può trovare una soluzione, dice Bonvicini, solo con un progetto integrato fra le diverse offerte termali della città. L'appuntamento è quindi lunedì mattina, 10 febbraio, alla stazione di Montecatini, da qui in treno fino a Firenze per recarsi in Piazza Duomo davanti alla sede della regione toscana. Lì il ritrovo è fissato per le 11.30. E per chiedere nuovi investimenti ma a fronte di un progetto, un progetto generale del sistema città. Non serve oggi una sola piscina alle Lopoldine, occorrono investimenti in uno stabilimento come il Tettuccio, occorre creare un progetto globale. Ricordiamoci che c'è stato un progetto nel 2007 che poi la regione ha abbandonato per mancanza di fondi. Una cosa incredibile, firmato Massimiliano Fuxas, che riguardava il villaggio termale. Quindi una città termale organizzata che è capace di attrarre con nuovi investimenti almeno 200.000 nuovi clienti. Il paradosso è che il Consiglio regionale non ci sarà. Giunta e consiglieri saranno a Laterina in provincia di Arezzo per un Consiglio regionale straordinario.